il grande viale questo fiume di vita brulicava di gente nel pulviscolo dorato del sole al tramonto il cielo era rosso accecante e dietro la marlene un'immensa nuvola di fiamme gettava per tutta la lunghezza della strada una cascata obliqua di fuoco vibrante come le esalazioni d'un bracere la folla allegra ed eccitata si muoveva in quella nebbia scintillante come in un trionfo i volti erano dorati i cappelli e abiti avevano riflessi purpurei la vernice delle scarpe buttava fiamme di luce sull'asfalto del marciapiede davanti al caffè una folla solo di uomini beveva bibite brillanti e colorate simili a pietre preziose fuse nel cristallo in mezzo a quelle persone vestite di abiti leggeri e più scuri due ufficiali in alta uniforme facevano abbassare tutti gli sguardi con lo sfolgorio delle loro dorature i due chiacchieravano gaiamente senza una ragione particolare in quella gloria di vita nel radioso splendore della sera guardavano alla folla i uomini lenti e le donne frettolose che lasciavano dietro di loro una scia profumata ed eccitante improvvisamente un negro gigantesco vestito di nero massizzo col panciotto leggero carico di ciondoli il viso lucido e come lustrato a cera passò dinanzi a loro con aria trionfale rideva ai passanti rideva ai giornalai che gridavano l'uscita serale dei quotidiani rideva al cielo sfolgorante rideva a parigi tutta intera era così alto che superava tutte le altre teste alle sue spalle quelli che non avevano niente da fare si voltavano a guardarlo ma quando vide improvvisamente i due ufficiali si precipitò verso di loro dando spintoni a tutti appena fu davanti al loro tavolino li fissò coi suoi occhi lustri ed estatici gli angoli della bocca gli salirono fino all'altezza delle orecchie scoprendo denti candidi simili a una mezzaluna sullo sfondo di un cielo nero i due uomini stupiti osservavano quel gigante debano senza capire il motivo della sua allegria e lui esclamò con una voce che fece ridere tutti quelli dei tavoli vicini buongiorno signor tenente uno dei due ufficiali era maggiore l'altro colonnello il primo disse non vi conosco non so cosa volete da me il negro riprese io ho amato molto te tenente Vediè assedio Bezi molta uva io ho trovata l'ufficiale attonito guardava fisso l'uomo frugando nella memoria ma a un tratto gridò tombuc tu? raggiante il negro si diede una manata sulla coscia e rise con una violenza inverosimile berciando sì sì ya signor tenente conosci tombuc tu? ya buongiorno il maggiore gli tese la mano ridendo anche lui di tutto cuore allora tombuc tu ridiventò serio prese la mano dell'ufficiale e prima che l'altro potesse impedirglielo la baciò secondo l'uso negro arabo l'ufficiale confuso gli disse in tono severo via tombuc tu non siamo in Africa sediti e dimmi come mai ti trovi qui tombuc tu si impettì e balbettando tanto parlava svelto guadagnato molti soldi molti grande ristorante mangiare buono prussiani io ho rubato molto molto cucina francese tombuc tu cuoco dell'imperatore duecentomila francesi miei ah 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 e rideva contorcendosi gridando con una follia di gioia nello sguardo dopo avergli fatto qualche domanda l'ufficiale che capiva il suo strano linguaggio gli disse beh arrivederci tombuc tu a presto il negro si alzò subito stavolta strinse la mano che gli veniva tesa e sempre ridendo gridò buongiorno buongiorno signor tenente e se ne andò desticolando per l'allegria come un matto il colonnello chiese chi è quel bestione un bravo ragazzo un soldato coraggioso voglio raccontarvi quel che so di lui è piuttosto divertente come sapete all'inizio della guerra del 1870 mi trovai a Besire che quel negro chiama Besi non eravamo assediati ma bloccati le linee prussiane ci circondavano da ogni parte fuori del tiro dei cannoni e non sparavano su di noi ma poco a poco ci affamavano a quell'epoca ero tenente la nostra guarnigione era composta da soldati di ogni genere resti di reggimenti decimati fuggiaschi saccheggiatori allo sbando insomma avevamo di tutto persino 11 turchi arrivati una sera chissà come e chissà da dove si erano presentati alle porte della città spossati lazeri affamati e sbronzi li diedero a me vedi subito che erano ribelli a qualsiasi disciplina sempre fuori e sempre ubriachi tentai di domarli con la consegna persino con la prigione ma non servia niente i miei uomini sparivano per giornate intere come se fossero sprofondati sottoterra poi ricomparivano ubriachi fradici non avevano denaro dove andavano a bere e come con chi la cosa cominciava a incuriosirmi molto tanto più che quei selvaggi mi interessavano per la loro eterna allegria e il loro carattere di bambinoni furbi mi accorsi così che obbedivano ciecamente al più alto di loro quello appunto che avete visto lui li dirigeva a suo piacere preparava loro misteriose imprese da quel capo onnipotente e incontestato che era lo feci venire da me e lo interrogai la nostra conversazione durò tre ore tanto era difficile capire quel suo linguaggio incomprensibile quanto a lui povero diavolo faceva sforzi inauditi per essere capito inventava parole gesticolava sudava per la fatica si asciugava la fronte ansava si fermava e ricominciava tutto a un tratto quando credeva di aver trovato un nuovo modo per farsi capire alla fine capì che era figlio di un gran capo una specie di re negro vicino a Tombuctu gli chiesi il suo nome rispose qualcosa come pensai che era più semplice da dire il nome del suo paese Tombuctu e in capo a otto giorni tutta la guarnigione lo chiamava così ma volevamo sapere a tutti i costi dove trovava da bere quell'ex principe africano io lo scoprì in un modo curioso una mattina mi trovavo sui bastioni a scrutare l'orizzonte quando scorsi qualcosa che si muoveva in una vigna era quasi tempo di vendemmia l'uva era matura ma a questo non pensai pensai che una spia si stesse avvicinando alla città e organizzai una spedizione per prenderla assunsi io stesso il comando dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal generale da tre porte diverse avevo fatto uscire tre piccoli drappelli che dovevano riunirsi vicino alla vigna sospetta per circondarla per tagliare la ritirata alla spia uno dei drappelli aveva fatto una marcia di almeno un'ora un uomo rimasto in osservazione sulle mura mi segnalò che la persona che avevo indovinato non si era allontanata avanzavamo nel massimo silenzio strisciando quasi distesi nei solchi alla fine arriviamo al punto giusto faccio disporre i soldati che si lanciano nella vigna e trovano Tombuctu che si spostava carponi tra le viti e mangiava l'uva o meglio la ferrava con la bocca come un cane quando mangia un avanzo direttamente dalla pianta staccando il grappolo coi denti cercai di farlo alzare ma non c'era nemmeno da pensarci e allora capii per quale ragione strisciasse così sulle mani e sulle ginocchia appena lo ebbero tirato su oscillò per qualche secondo tese le braccia e cadde faccia a terra era sbronzo come non ho mai visto nessuno lo riportammo sdraiato su due pertiche per tutta la strada non smise un minuto di ridere agitando braccia e gambe il mistero era tutto qui quei volponi bevevano direttamente dall'uva poi quando erano sbronzi da non potersi più muovere rimanevano lì a dormire quanto a Tombuctu il suo amore per l'uva era superiore a ogni immaginazione viveva tra le viti come i tordi che il resto detestava con l'odio del rivale geloso diceva sempre tordi mangiata tutta l'uva farabutti una sera vennero a cercarmi sulla pianura si vedeva qualcosa avanzare verso di noi non avevo con me il cannocchiale e non distinguevo bene pareva un grosso serpente che si snodava una carovana chissà mandai alcuni uomini incontro allo strano corteo che ben presto fece il suo ingresso trionfale Tombuctu e nove dei suoi compagni recavano su una specie di altare fatto con sedie rustiche otto teste mozze insanguinate e contratte in una smorfia il decimo turco trascinava un cavallo alla cui coda ne era attaccato un altro e altri sei ne seguivano tutti legati nello stesso modo ecco quel che mi raccontarono erano diretti alle vigne i miei africani quando avevano visto un drappello prussiano che si avvicinava a un villaggio invece di scappare si erano nascosti poi quando gli ufficiali erano scesi in una locanda per ristorarsi si erano slanciati avevano messo in fuga gli ulani che si erano creduti attaccati avevano ucciso due sentinelle e poi il colonnello e i cinque ufficiali di scorta quella volta abbracciai Tombuctu ma mi accorsi che camminava a fatica credetti che fosse ferito ma lui si mise a ridere e mi disse io l'ho vista per casa il fatto è che Tombuctu non faceva la guerra per la gloria ma per guadagnare qualcosa tutto quello che trovava tutto quello che gli pareva avesse un qualsiasi valore soprattutto tutto quello che luccicava se lo infilava in tasca e che tasca una voragine che cominciava sul fianco e finiva alla caviglia aveva imparato una parola del gergo dei soldati e la chiamava la profonda e davvero era la sua profonda e così aveva staccato l'oro dalle uniformi prussiane l'ottone dagli elmi i bottoni e così via gettando tutto nella sua profonda che debordava ogni giorno vi buttava dentro qualsiasi oggetto luccicante che gli cadesse sotto gli occhi pezzi di stagno o monete e a volte questo gli dava una stranissima sagoma contava di riportare tutta quella roba nel paese degli struzzi del quale pareva proprio il fratello quel figlio di re torturato dalla necessità di inghiottire tutto quello che brillava che avrebbe fatto se non avesse avuto la sua profonda di sicuro avrebbe inghiottito tutto ogni mattina la tasca era vuota perciò aveva un magazzino generale dove andavano ad accumularsi le sue ricchezze ma dove mai riuscì a scoprirlo il generale informato dell'impresa di Tombouctou fece sotterrare al più presto i corpi rimasti nel villaggio vicino perché non si scoprisse che erano stati decapitati i prussiani ritornarono il giorno dopo il sindaco e sette notabili del luogo furono fucilati seduta stante per rappresaglia accusati di aver segnalato la presenza dei tedeschi venne l'inverno eravamo sfiniti e ridotti alla disperazione adesso si combatteva ogni giorno gli uomini affamati non camminavano più solo gli otto turchi tre erano stati uccisi rimanevano grassi e lucidi pieni di forza e sempre pronti al combattimento Tombouctou addirittura ingrassava un giorno mi disse tu molta fame io buona carne e mi portò un ottimo filetto ma di che cosa non avevamo più né buoi né pecore né capre né asini né maiali era impossibile procurarsi del cavallo pensai a tutto questo dopo aver divorato la mia carne allora mi venne un pensiero tremendo quei negri erano nati molto vicino al paese dove si mangiano gli uomini e ogni giorno tanti soldati cadevano intorno alla città interrogai Tombouctou ma non volle rispondere non insistetti però da quel giorno rifiutai i suoi regali mi adorava una notte sugli avamposti ci sorprese la neve eravamo seduti per terra io guardavo impietosito i poveri negri che battevano i denti sotto quella polvere bianca e ghiacciata avevo molto freddo anch'io e mi misi a tossire subito sentii qualcosa a cadermi addosso come una gran coperta calda era Tombouctou che mi aveva buttato il suo mantello sulle spalle mi alzai e glielo restituì tienilo tu che ne hai più bisogno di me ragazzo mio lui rispose no signor tenente per te io non bisogno io caldo caldo mi guardava con occhi supplichevoli ripresi andiamo ubbidisci tieni il mantello te lo ordino allora il negro si alzò sfoderò la sciabola che teneva affilata come una falce e reggendo con l'altra mano il mantello che io rifiutavo se tu non tenere mantello io tagliare mantello e lo avrebbe fatto c'è detti otto giorni dopo la resa alcuni di noi erano riusciti a fuggire gli altri stavano per uscire dalla città e consegnarsi ai vincitori stavo andando verso la piazza d'armi dove dovevamo riunirci quando mi fermai sbalordito davanti a un negro gigantesco vestito di cotone bianco e con un cappello di paglia in testa era Tombouctou sembrava il ritratto della felicità passeggiava con le mani in tasca davanti a una botteguccia dove erano esposti due piatti e due bicchieri gli dissi che fai? rispose io non partire io bravo coco io ho fatto mangiare colonnello Algeria io far mangiare prussiani rubare molto molto c'erano dieci gradi sotto zero io rabbrividivo davanti a quel negro vestito di cotone allora mi prese per il braccio e mi fece entrare vidi un enorme insegna che avrebbe appeso alla porta non appena ce ne fossimo andati perché aveva un certo pudore e lessi trazzato da qualche complice il seguente richiamo cucina militare Tombouctou ex cuoco dell'imperatore artista di Parigi prezzi modici nonostante la disperazione che mi rodeva al cuore non potei trattenermi dal ridere mentre lasciavo il negro al suo nuovo commercio non era meglio così piuttosto che farlo prendere prigioniero come avete visto ce l'ha fatta adesso Besire è sotto i tedeschi il ristorante Tombouctou è il principio della nostra rivincita a